Ed eccoci con l'ospite della giornata, saluto Carlo Tascini, il dottor Carlo Tascini, che è il direttore della clinica delle malattie infettive dell'ospedale di Udine. Grazie per essere qui. Allora dottore, intanto le chiedo, siete ovviamente a ogni posto occupato in questo momento? Beh sì, purtroppo nell'ospedale di Udine, ma anche in altri ospedali nella provincia, abbiamo tutti i letti Covid occupati in questo momento. In particolare nel reparto, nella clinica di malattie infettive, abbiamo 59 posti letto e sono costantemente occupati purtroppo da pazienti con l'infezione da Covid e anche con la polmonite, polmonite grave da Covid. Ecco, quindi ci sono, su quanti piani sono suddivisi? Beh, noi abbiamo aperto tre piani della clinica, anche la parte che era l'ambulatorio è stata riconvertita in reparto di degenza e quindi abbiamo tre piani di ricovero con i pazienti più gravi al secondo piano, dove ci sono le stanze ad alta pressione negativa e poi abbiamo la complessità intermedia al primo piano e diciamo fortunatamente quelli che stanno meglio al piano terra. Senta, prima del Covid voi ovviamente curavate anche altri malati, in questo momento dove sono questi pazienti? Beh, noi cerchiamo con molta difficoltà di fare un po' di ambulatorio, anche se pochissimo, e non abbiamo più ricoveri di malati con malattie infettive e purtroppo questo è un problema per tutti gli altri pazienti che hanno altre infezioni che vengono trattati al momento in altri reparti e noi cerchiamo di seguirli in altri reparti, però effettivamente l'ondata dei pazienti Covid non ci ha permesso di seguire gli altri pazienti al momento se non in modo indiretto. Quanti siete? Beh, noi siamo 18 medici, più abbiamo molti medici che ci danno una mano, tra cui gli anestesisti, cardiologi e anche medici pensionati che sono tornati volontari a darci una mano perché l'impatto sull'ospedale è stato fortissimo, come anche sulla comunità, sui medici della comunità ovviamente, è stata una cosa molto molto impegnativa, dura da tanto tempo, io devo ringraziare sia i miei medici che i medici specializzanti che sono nella clinica, sia gli infermieri, gli os e il personale amministrativo, è stato uno sforzo incredibile al quale nessuno si è sottratto e devo dire francamente insomma che la clinica ha risposto come tutto il sistema sanitario anche regionale perché è uno sforzo incredibile, al momento abbiamo più di 300 ricoverati per questa pandemia. Ecco senta, lei parlava appunto di persone anche che in forma volontaria, professionisti donano il loro tempo, è anche il vostro caso? Sì sì, noi abbiamo avuto vari medici che attualmente ci danno una mano e ci hanno dato una mano compatibilmente con le loro disponibilità, ma abbiamo avuto solidarietà anche dai cittadini, donazioni, insomma devo dire che in tanti ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, devo dire un po' più nella prima ondata rispetto alla seconda, noi la seconda ondata la stiamo subendo come tutti quanti, insomma è veramente un impatto importante insomma sul nostro lavoro come è stato sulla società. Senta dottore, ma quindi ci sono medici che avevano appeso per così dire il camice al chiodo, se lo sono rimesso e sono rientrati in un reparto dove si rischia evidentemente? Sì, insomma questo è successo, ma è successo in tutta Italia, insomma ci sono stati molti episodi di solidarietà e ci sono stati anche medici e infermieri che sono andati in regione che erano in difficoltà, non solo dal Friuli, ci sono stati uno scambio, ci sono stati anche scambi di malati quando non c'era la possibilità di curarli in loco, ma vorrei dire che anche coloro che lavorano nei nostri reparti al pronto soccorso, in terapia intensiva e malattie infettive stanno facendo dei turni e delle ore in più che insomma sono notevoli, ma in un momento del genere uno non si può tirare indietro, è il nostro mestiere. Senta Taccini, non voglio fare una domanda antipatica, ma c'è stato qualche suo collega che è, non so, esasperato, stanco, abbiamo visto anche delle immagini a livello nazionale che ha pianto, che ha avuto uno sfogo, sono esausti. Ma vabbè, pianto, no, però degli sfoghi ogni tanto ci sono delle discussioni, è ovvio che nei momenti di crisi così ci possono essere delle discussioni su come affrontare i problemi, è normale, insomma noi facciamo spesso il paragone della guerra e in guerra ci possono essere dei contrasti, delle visioni differenti, ma questo fa parte insomma della natura umana, è normale. Senta, secondo lei il lockdown sarebbe utile o no totale? Ma guardi, io insomma non faccio il medico, vedevo prima la classifica dei virologi, tra l'altro io sono un medico, non sono un virologo, sono uno specialista in malattie infettive, anche se poi sono un microbiologo, però ritengo che è difficile prendere decisioni in una situazione come una pandemia che non era mai capitata e che anche per noi che siamo i professionisti di queste cose è stata una cosa non aspettata. questo vanno dette le cose perché io sento troppi esperti al giro, ci sono i modelli matematici, ci sono varie ipotesi sulle prime, seconde, terze ondate, come è avvenuto per la spagnola, ma è avvenuto cent'anni fa, quindi non è che abbiamo dei modelli predittivi come vedo le previsioni del tempo, lì ci sono studi matematici da anni e anni, la pandemia c'erano gli studi matematici, ma mai applicati sul campo, quindi questo va riflettuto, è ovvio che se noi chiudiamo la società salviamo l'ospedale a meno pressione, se non chiudiamo la società l'ospedale ha più pressione, però ricordiamoci che a marzo e aprile in Lombardia molti pazienti hanno avuto l'infarto a casa, molto più del normale, quindi noi adesso abbiamo tenuto aperto tutte le strutture dell'ospedale per le urgenze, abbiamo lasciato aperto la società e l'onda è più lunga rispetto ad altre regioni dove c'è stata la zona rossa più dura, questo ha comportato dei danni per l'economia, bisogna trovare la strada intermedia, non è semplice, è ovvio che se noi facciamo un lockdown totale sicuramente si riduce in modo più drastico la curva degli infetti, noi dobbiamo tener conto che due settimane fa abbiamo avuto il picco con circa 3.000 nuovi positivi nella provincia di Udine, adesso fra i test fatti in ospedale e nei laboratori privati adesso siamo scesi di quasi 1.000 in 15 giorni, quindi il trend è in calo, però bisogna che ci sia un impegno da parte di tutti per ridurre la diffusione del virus, io mi sono tolto la mascherina perché siamo a distanza di sicurezza, bisogna essere ligi, bisogna essere rigorosi, non possiamo permetterci di avere ancora a lungo tutti questi positivi, se c'è il semaforo rosso io mi fermo, se no rischi l'incidente o 10 punti della patente, facciamo la patente delle mascherine e così almeno vediamo chi li perde subito tutti, bisogna essere veramente rigorosi su questo. La degenza media, le persone quanto stanno nel suo reparto mediamente? Ma in media siamo sui 9-10 giorni di degenza media perché in effetti spesso abbiamo anche problemi a rimandare a casa i pazienti perché magari il paziente è positivo e ha dei negativi in famiglia, ci sono state create molte strutture anche per accogliere questi pazienti e poi perché le polmoniti sono gravi, abbiamo delle forme gravi non solo sugli anziani che sono purtroppo più fragili e questo spiega anche l'andamento di alcuni parametri, ma anche su persone che hanno 70, 60, 50 anni ci sono delle forme gravi ma non solo in Friuli, in tutta Italia e in tutto il mondo. Proprio in breve, il paziente che arriva da voi che percorso fa? Ma in genere il paziente passa dal pronto soccorso, principalmente dal pronto soccorso dell'ospedale di Udine che è molto sotto pressione perché bisogna dire che rispetto a febbraio-marzo c'erano molto in meno pazienti che venivano per altri motivi al pronto soccorso, bisogna riconoscere lo sforzo del pronto soccorso che ha tenuto aperto sia il percorso pulito che il percorso Covid. Quindi arrivano al pronto soccorso e poi dal pronto soccorso in genere vengono trasferiti a malattia infettiva o direttamente dai pronti soccorsi periferici, pazienti che purtroppo peggiorano poi vanno in terapia intensiva per lo più e poi abbiamo una subintensiva anche pneumologica dove possono passare dalla terapia intensiva o direttamente dal pronto soccorso. In più abbiamo anche altri reparti, abbiamo un reparto di neurologia per Covid, abbiamo una medicina d'urgenza per Covid e probabilmente verranno aperti anche nuovi reparti perché ripeto il numero dei pazienti è veramente elevato. Sì, Dattacini, stiamo per concludere. Guardando il suo curriculum lei ha prestato servizio anche in Lombardia, in ospedale dove... Forse... Sono stato a Napoli. A Napoli, scusa. A Napoli. Ecco. Voglio dire, ci stupiamo il percorso rosso, il percorso verde, noi l'abbiamo istituito al pronto soccorso a febbraio, ci sono alcune strutture che lo stanno istituendo in questi mesi, con un po' di ritardo evidentemente. Ma no, guardi, io direi che la risposta che è stata fatta in Italia è una risposta in tante regioni adeguata. Quello che è stato fatto in Italia è stato preso anche a modello in altri paesi, perché siamo stati i primi nei paesi occidentali che sono stati colpiti. Ripeto, ma ci sono stati sicuramente anche dei percorsi sbagliati, però la maggior parte delle scelte che sono state fatte, io penso che sono delle scelte adeguate alla situazione. È ovvio, come ripeto, è da cent'anni che non avevamo una situazione del genere. Ho visto che bisognava prepararsi, il piano pandemico, c'è tanta polemica sull'aggiornamento di questo, eccetera. Questo fa parte della specificità dei tecnici. Poi sul campo il sistema sanitario ha risposto, io penso che bisogna considerare che il sistema sanitario nazionale e poi quelli regionali, il sistema sanitario pubblico è un bene comune che deve essere preservato. Poi, come su tutte le cose, ci possono essere dei problemi. Pensate agli Stati Uniti, dove la sanità è privata e c'è differenza di mortalità in base all'etnia e al censo. Questo da noi non è successo, fortunatamente. Allora, diciamo che il sistema sanitario nazionale è un bene che deve essere preservato e nella pandemia, secondo me, ha fatto la differenza. Parliamo una volta anche delle cose positive, se no siamo sempre critici con noi stessi. Facciamo sempre l'esempio della Germania. la Germania è in lockdown totale adesso, cioè la pandemia non fa sconti a nessuno purtroppo. Allora, affrontiamola in modo razionale, miglioriamo le cose, sono d'accordo, ragioniamoci, però non sarei del tutto negativo su come è stato affrontato. Ripeto, probabilmente si poteva fare meglio, ma su tutto questo. Senta, il vaccino risolverà tutto? Ecco, questa è una domanda. Il vaccino, diciamo, è quello che noi ci attendiamo. Noi abbiamo bisogno per bloccare l'epidemia di circa il 70% della popolazione che sia immunizzata. Noi non sappiamo bene al 100% come il sistema immunitario ci protegge, anche perché è una malattia che conosciamo da pochi mesi. Noi stiamo seguendo pazienti che dalla prima ondata hanno avuto il Covid, la maggior parte ha ancora gli anticorpi, premesso che gli anticorpi siano proteggenti, che probabilmente ci sarà anche l'immunità cellulomediata che protegge dal virus. E vediamo che molti ancora hanno gli anticorpi, qualcuno li ha persi. Quindi noi per il vaccino cosa vedremo? Vedremo quanto durerà l'immunità e se c'è bisogno di un richiamo. Ma sicuramente abbiamo bisogno di immunizzare almeno il 70% delle persone, naturalmente o con il vaccino. Grazie Dottor Tascini, un abbraccio virtuale a lei e a tutti i suoi collaboratori per quello che fate. Un pensiero a tutti i malati, lo faccio in tutte le trasmissioni che combattono con il Covid e con altre malattie. Noi adesso ci fermiamo e andiamo in pubblicità, poi ancora un po' di rassina stampa.